5 ottobre 1954. I governi dell'Italia, del Regno Unito, degli Stati Uniti e della Jugoslavia firmano a Londra un memorandum d'intesa sul territorio libero di Trieste. Il 26 ottobre, con l'arrivo in città di reparti dell'esercito italiano, Trieste torna all'Italia dopo quasi nove anni di amministrazione anglo-americana. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS